Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Allora Vincenzo, cosa vuol dire essere direttore tecnico di un evento sportivo come la Stradinamica? Vuol dire soprattutto metterci tanta passione, perché comunque significa un mese di impegni, di sacrifici, non andare più a casa, non essere il capo famiglia come normalmente, perché comunque c'è da fare tantissimo, c'è da tracciare il percorso, affiggere i divieti, andare per gli sponsor, organizzare anche tutto con la federazione e quindi c'è tanta, ma tantissima fatica per una manifestazione del genere. Però poi vieni ripagato dalle iscrizioni, siamo a circa 1.100 e quindi tutto va bene. Aspettiamo domani, il tempo è con noi, quindi voglio fare anche un in bocca al lupo a tutti gli atleti che hanno deciso di partecipare alla Stradinamica, perché ci saranno quasi tutti i più forti atleti a livello regionale. Sindaco, pensa che questo evento possa essere un attrattore, in un certo senso turistico, o per chi viene da fuori, insomma, che possa in un certo senso incrementare il prestigio di Palo del Colle? Beh, sicuramente è uno stimolo a soffermarsi e a riflettere anche su quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, non solo, ma anche le caratteristiche strutturali, architettoniche, c'è Piazza Santa Croce che è il punto di arrivo ed è sicuramente una quinta scenica tra le più belle, ma anche il fatto che il circuito, il percorso si dislochi lungo la periferia di Palo è significativo perché abbiamo comunque una bella periferia, non è abbandonata, e soprattutto perché si affaccia sull'agro che è una nostra risorsa, una risorsa importante e con l'incentivo al turismo dell'entroterra, al cicloturismo che mette in evidenza anche i percorsi rurali, diciamo che una gara come la stradinamica non può far altro che attenzionare il territorio tutto. Dottor Lerario, quali sono i ruoli e la responsabilità appunto del responsabile sanitario di un evento sportivo come questo? Un evento di questo genere a cui partecipano oltre 1.200 corridori, è un numero che va triplicato perché il corridore non viene da solo ma viene accompagnato, quindi un arrivo soltanto da fuori di 3.400 persone in circa, 4.000 persone, più i locali, impone una organizzazione estremamente attenta a tutte le evenienze. Domani già partiamo con dei numeri inediti per Palo perché le precedenti occasioni sono state in maniera eccellente ottemperate dalla sezione locale della Croce Rossa, ma proprio l'incremento di personale ha fatto in modo che venisse chiamata, che io chiamassi anche la sezione di Bari, così da poter lavorare su due ambulanze e su un numero variabile anche a seconda delle condizioni meteo, di equipaggi a piedi dislocati sul percorso, sperando di non doverci vedere più alla fine dell'evento. Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami.